Ammontano a 4 milioni di euro i finanziamenti che la provincia di Ravenna ha investito sulla manutenzione straordinaria di manti stradali e il rifacimento della segnaletica orizzontale per più di 100 km sulla rete viaria del territorio bizantino. Particolare attenzione è stata prestata alla messa in sicurezza di incroci pericolosi e ponti. Sono solo 7 su oltre 270 i ponti per cui sono previsti interventi. Tra questi da segnalare i lavori per la messa in sicurezza del ponte della Chiusa sul fiume Senio e quello sul fiume Montone all'altezza di Roncalcesci. Non del comune di Ravenna ma dell'intero territorio provinciale ed è importante che questo avvenga perché è la provincia che ha la competenza sulla principale rete infrastrutturale di un territorio. Per tanti anni le province non hanno avuto né personale né risorse per occuparsene, finalmente stiamo cercando di riprendere quel ruolo. Nel concreto nel corso di questi mesi estivi siamo riusciti a manutentare con nuovi asfalti oltre 100 km di strade provinciali, circa un ottavo dell'intero sistema e messo avanti importanti progettazioni per le opere di manutenzione dei ponti più vetusti, di adeguamento della rete infrastrutturale stradale e anche per una nuova mobilità ciclabile. Credo che sia importante che la provincia riassuma pieno il suo ruolo fattivo sulle infrastrutture ma anche di coordinamento territoriale perché è dalla capacità di lavorare insieme ente provinciali e comuni che possiamo farcelo in un momento che non è facile ma ci vede protagonisti con grande determinazione.